Spazi rinnovati, un nuovo ascensore e soprattutto nessuna barriera architettonica. Partono i lavori che trasformeranno la scuola dell'infanzia di Omede Fresa in un asilo nido che potrà ospitare fino a 50 bambini. E ci sarà una ridistribuzione degli spazi, quindi con l'individuazione di aule, di menze e di vari spazi anche per i neonati. La struttura nel cuore di Barivecchia è chiusa dallo scorso giugno e verrà riaperta entro la fine del 2025. Questo asilo potrà accogliere 40 bambini più il 25%, come prevede la normativa, divisa nella fascia lattanti, cioè piccolini dai tre mesi a un anno, diversi e semi diversi. Quindi dai tre mesi ai tre anni questo luogo includerà circa 40 bambini dalla mattina fino alle 18, come tutti i nostri esili nido. Noi siamo la prima città per investimenti sugli esili nido, ci sarà tanto altro da fare perché i servizi per le famiglie sono fondamentali e abbiamo bisogno di un accordo pubblico-privato. Il restauro dell'edificio, finanziato con 775 mila euro dei fondi del PNRR, rientra nel piano del comune che prevede la nascita di 12 asili nido che consentiranno di raggiungere la media europea di posti nei nidi. Oggi nelle strutture comunali c'è spazio per 18 bambini su 100. Entro due anni si arriverà al 32,8%. Più che supera lento.